Paukid RGB 10 Max 3, la console che mi è piaciuta ma per i motivi sbagliati, subito dopo la sigla. Ciao, ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Come vi ho anticipato oggi parleremo della Paukid RGB 10 Max 3 e vi spiegherò cosa intendo per il fatto che mi è piaciuta ma per i motivi sbagliati. Trovate il link qui sotto in descrizione per poter approfondire. La console arriva dallo store MatchDA che ringrazio, uno store dedito proprio alla vendita di console per il retro gaming, ne trovate tantissime e anche quelle appena uscite sul mercato tra l'altro a prezzi davvero ottimi. Date uno sguardo partendo proprio dalla descrizione. Come sempre la trovate anche linkata sul mio canale Telegram di offerte codici sconto Jutech su Telegram o sempre link qui sotto in descrizione. Bando alle ciance come si suol dire e andiamo subito a parlare della console. Come di consueto ultimamente vi premetto che mi piace definirmi un retro gamer perché gioco al retro gaming perché mi piacciono console di questo tipo ma non sono certamente il massimo degli esperti e soprattutto non ho pretese di questo tipo. Voglio raccontarvi solo quella che è la mia esperienza di tutto il resto non mi interessa proprio nulla. Detto questo amici come è di consueto le console Paukidi vi arrivano a casa in un box cartonato a mio avviso molto più dozzinale rispetto a quelli Ambernic di colorazione gialla, qualche serigrafia ma che non rappresenta per nulla cosa troviamo all'interno se non quelli che sono i colori delle console. Ne sono variegati e a me in particolare è arrivata la colorazione gialla. All'interno la confezione si presenta altrettanto dozzinale nel senso che abbiamo una plastica che va a proteggere la console di bassa qualità. Troviamo anche il cavo per il collegamento al computer o per la ricarica e proprio un piccolo manualetto. Nel mio caso non ho trovato null'altro neanche lo screen protector. Comunque vista da vicino subito risalta quello che è il suo enorme display 5 pollici ps 1280 x 720 la risoluzione. Anche qui non voglio entrare in diatribe nel senso che questo non è uno schermo adatto a retro gaming. I puristi diranno che gli schermi adatti a retro gaming sono altri altre risoluzioni insomma anche di questo non mi interessa fate voi vi parlo della console punto e basta. Lateralmente troviamo in alto il tastino select non tanto mi piace nei materiali. Troviamo il d-pad leggermente rialzato non scomodissimo ma neanche il massimo soprattutto perché gli switch che si trovano sotto non sono proprio il massimo. Un po' di problemi nei picchiaduro ma anche nell'effettuare skill in altre circostanze secondo me li avrete. Subito in basso troviamo anche lo stick analogico sotto scocca non di tanto e anche qui c'è qualche piccolo problema a mio avviso. Nel senso che la corsa dello stick analogico non è proprio elevatissima leggermente in più rispetto a quella che era la RG556 di Ambernic ma capite che siamo su due pianeti completamente diversi. Dall'altro lato invece troviamo il tastino start in alto troviamo i tasti azione che in questo caso tutto sommato sono anche comodi da premere non ho avuto particolari difficoltà e troviamo poi l'altro stick analogico. Osservando la console nella parte in basso troviamo due speaker non potentissimi ma di discreta qualità tutto sommato. Troviamo una porta usb di tipo c per la ricarica troviamo il jack per le cuffie proprio al centro e troviamo due slot per le micro sd una per il sistema e una per le rom. Infatti anche se il form factor di questa console può dare adito a pensare che sia di tipo android in realtà questa è di tipo linux e questa probabilmente è la gran cosa di questa console e soprattutto si unisce il fatto che troviamo come firmware gel os dopo approfondiremo ma avrete già capito perché ho detto che mi è piaciuta anche se per i motivi sbagliati. Troviamo poi un'altra porta usb di tipo c otg quindi per il collegamento al computer per il trasferimento dei dati. Nella parte superiore tasto più e meno per il volume al centro porta mini hdmi tasto reset tasto di accensione e di spegnimento. Non troviamo null'altro se non i trigger innanzitutto non sono analogici sono dei trigger molto molto duri da premere davvero si fa fatica ai quali se andiamo aggiungere il fatto che la console si impugna davvero malissimo è piccolina poi la conformazione nella parte posteriore rende davvero difficile tenerla in mano insomma diventa fastidioso giocarci dopo un'ora le mani davvero risulteranno tartassate questa è la mia esperienza personale però come dicevo ciò che è bello è il fatto proprio che ci sia gel os gel os linux based ovviamente un sistema che rende al meglio soprattutto per le sue personalizzazioni sapete bene che è un sistema comunque abbandonato dagli sviluppatori principali è stato integrato da altri unofficial os per chi mi segue sa di che cosa sto parlando comunque è un sistema che in un modo o in un altro risulta sempre aggiornato insomma scopro sui vari forum che qualcuno ci ha messo mano che qualcuno ha ripreso il progetto insomma si ritrova sempre una versione aggiornata esperienza personale anche questo ed è come vi dicevo la ragione per la quale mi piace perché permette a queste console che lo supportano di rendere al meglio anche quando loro stesse non sono il top certamente il display in tal senso è buono nei colori però se andate a vedere la qualità non è proprio il massimo console come psx console come psp che tutto sommato girano bene su questo dispositivo di fascia bassa ecco rendono al meglio proprio perché c'è gel os ma magari con un altro firmware insomma non renderebbero bene così quindi questo è il punto favorevole per la console tutto il resto avrete capito che non mi ha convinto insomma trovate una cpu quad core da 1.8 gigahertz sul sito paukid addirittura nemmeno menzionata la gpu ma avremo secondo me la classica mali di fascia bassa un gigabyte di ram ddr4 che tutto sommato ecco permettono ai giochi di funzionare al meglio quindi psx psp ce la facciamo qualche piccola remora ce l'ho proprio sulla psp è supportato dreamcast nintendo ds però ecco le performance non sono top su tutti quanti giochi insomma amici questa è proprio una console da tenere così magari da dare a un bambino senza eccessive pretese ma certamente a mio avviso non può essere la console definitiva da avere tra le mani anche in termini di materiali preferirei 100.000 volte una rg 35 xx h una plus a questa comunque ve ne parlo però la cosa che mi è piaciuta è sicuramente la batteria intanto wifi 2.4 soltanto modulo bluetooth per i controller sì questo ci sta ma mi è piaciuta la batteria perché nonostante sia soltanto da 4000 mAh ecco in fase di gioco effettivamente 7-8 ore mi ha permesso di raggiungerle quindi un'ottimizzazione in tal senso ma anche grazie a gel os c'è e probabilmente può valer la pena spendere questi 60-70 euro escluse tasse doganali per un uso molto soft così come vi dicevo insomma amici mentre vi parlavo avrete visto come mio solito anche dei b roll proprio sui diversi emulatori e su come ci si gioca voi stessi vi sarete resi conto ma torno a dire quando parlo di console di questo tipo ecco una volta stabilito che a psx ci si arriva una volta stabilito che la psp funziona anche se i giochi più pesanti ecco lasciano un po a desiderare così come dreamcast così come nintendo ds secondo me molto non c'è da dire ecco scendere nei dettagli su console così fare dei test approfonditi per me per me che voglio solo proporvi un'esperienza con una console non ha molto senso anche perché il livello bene o male è quello alla fine ci limitiamo a parlare di quella che è la sua maneggevolezza e tutto il resto che come vi ho detto non mi ha convinto proprio per nulla anche perché se la vedete lei è proprio un cassettone da tenere in mano insomma amici voglio salutarvi così come avrete capito vi do la mia impressione non è che parlo sempre bene di tutti quanti i prodotti che arrivano qui in studio valutate fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate se per voi è una console che vale la pena avere o se l'avete acquistata e come vi state trovando ripeto io non tanto bene e non mi sento di consigliarvela detto questo ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube ciao 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 ciao